Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta a cioccolato bianco e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono cioccolato bianco, zucchero, amaretto di saronno, burro, sciroppo di orzata, farina, vanillina, sale, farina di mandorle, aroma di mandorle, uova e lievito per dolci. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato bianco e lo facciamo dritare per 10 secondi a velocità 7. Rieuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, lo sciroppo di orzata e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 7 minuti, 50 gradi, velocità a 4. Aggiungiamo la farina di mandorle, la farina di tipo 00, un pizzico di sale, la vanillina, l'amaretto di saronno che ricordiamo è facoltativo, le gocce di essenza di mandorla e le uova. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo il lievito ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. Il composto è pronto. Trasferiamolo in uno stampa a ciambella del diametro di 24-26 cm. Cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 40-45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. Torta, cioccolato bianco e mandorle. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!